Allora qui abbiamo un signore che sta cercando di entrare, no no facciamo vedere i dati, dai continua, continua, che sta cercando di chiedere assistenza per lo speed in Amirial, la password, dai l'abbiamo scritta prima, quella scritta nel foglio, che sta chiedendo assistenza per lo speed in Amirial, gli abbiamo dato tutte le istruzioni e in 5 minuti è uscito contentissimo, mi voleva portare un caffè però è meglio che io caffè non ne prenda, vero Paolo? E' meglio che non ne prenda, ok, no ci manca un numero qua, è emozionata adesso che sto facendo, non voleva essere ripreso, no, vai mettici la password che è questa, va bene, recensione positiva, vero Paolo? Sì, veramente, sono stato veramente soddisfatto, contento, lo consiglio a chi è veramente di cuore, è molto esperto, ha seguito veramente bene, grazie mille, grazie, ma tu avevi già provato a chiedere assistenza da un'altra parte, è vero? Io? Sei andato in un altro posto, non diciamo chi era, non diciamo chi era però non ci sono riusciti, va bene, dai, grazie mille, ciao ciao. Ciao. Ciao.